proviamo la chiavetta 3 per visionare la velocità che riesce a raggiungere chiavetta 3 collegata sito speedtest.net iniziamo col test il server è di Roma ospitato da Unidata iniziamo col test ping 104 connessione siamo sui 576 5 mega e 76 in download vediamo in upload quanto riusciamo a raggiungere siamo sui 17 170 megabit al secondo in upload download 576 ping 104 upload 17 vediamo l'orario sono le si deve vedere non si vede comunque l'1 e 24 grazie per l'attenzione ciao 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 ciao